E' notte fonda per il Bitonto, il poker casalingo incassato per mano della Gelbison suona quasi come una condanna per la compagine neroverde, sempre relegata al penultimo posto del girone, con un divario salito a quattro lunghezze dalla zona play-out a cinque gare dal termine. Nemmeno il ritorno in panchina di Valeriano Loseto basta rivitalizzare un ambiente ancora evidentemente scosso dall'aggressione subita domenica ad alcuni calciatori al rientro da Rotonda. La sfida da ultima spiaggia del Rossiello, al cospetto dei Cilentani, parte con presupposte negativi e finisce anche peggio per Palazzo e compagni. Nemmeno tre minuti e la Gelbison schioda già il risultato grazie all'acuto del proprio bomber Croce, implacabile nell'avventarsi sul retropassaggio superficiale di Coppola, bruciare Obodo in anticipo e battere Bellavista con un perfido diagonale. Gli ospiti concedono il bis al secondo tentativo utile con Kosovan che al decimo penetra in aria e scarica alle spalle di Bellavista un fulminio sinistro ad incrociare sul palo più lontano. Tramortito dall'iniziale 1-2 avversario, l'undici Neroverde prova a scuotersi al ventunesimo con il piazzato dal limite di Zingaro che oltrepassa la traversa. Alla mezz'ora, Bellavista evita di capitolare per la terza volta sullo shoot di Kosovan, quindi nella stessa azione la conclusione a botta sicura di Ferrante deviata col piede da aprile. Al trentaquattresimo Obodo imbecca al limite Figliolia che disponda serve Mollica, il cui destro risulta strozzato, a seguire Zugaro da palla inattiva per l'inzuccata di Prinari, debole e centrale. La frazione si chiude con il poderoso destro dalla distanza di De Pasquale disinnescato in tuffo da Bellavista. In avvio di ripresa, Lo Seto getta nella mischia anche De Michele e Chacon. Proprio quest'ultimo, al ventunesimo, sugli sviluppi di azione d'angolo cerca in vano di dimezzare il passivo con una soluzione in drop decisamente alta, mentre un paio di minuti più tardi la Gelbison trova il modo di triplicare con una spettacolare girata mancina in aria di Kosovan. Colpaccio dei Cilentani blindato con largo anticipo, Bitonto in dieci dal trentasettesimo per il cartellino rosso sventolato e danni di Zugaro, preludio alla quarta marcatura ospite griffata al quarantesimo da Barone su suggerimento di Gagliardi. Terzo stop di fila e settima gara l'asciutto di successi per il Bitonto, che dopo la pausa pasquale ripartirà dall'ostico derby esterno contro la Fidelissandria, mentre la Gelbison, ormai ipotecata alla salvezza diretta, sarà impegnata nella seconda trasferta di fila contro il Rotonda.